L'associazione Pesaro Balla, diretta dai maestri Fiorenzo e Ana, riparte dal 13 settembre con i corsi di ballo per adulti e bambini. Danze latino-americane, danze standard, liscio e ballo da sala, boogie-boogie e rock'n'roll, balli di gruppo, danze coreografiche e tango argentino, ma anche zumba e pilates specifico per postura. Tutte le mattine, ginnastica dolce e ballo, over 65, lezioni private e collettive o mirate per competizioni, preparazione tecnica ed esami per maestri di ballo. Iscriviti anche tu, per te un simpatico omaggio. Per info e iscrizioni, Pesaro Balla, via Macerata Feltri a 12, Montecchio, 0721 49 70 71.